Dopo l'ennesima protesta romana, i sindaci siciliani non nascondono la loro disillusione. Non si fidà più delle promesse francovalenti, mentre Francesco Cacciatore rivela che solo il 30% dei posti in pianta organica nel suo comune è occupato. Politica, la scelta dei candidati si faccia con le primarie, così oggi Stefano Scaduto, il quale a nome del centro De Gasperi fa sapere che nel regolamento del PD i sindaci in carica devono far sapere se si ricandidano già nove mesi prima delle elezioni. Covid, un'altra vittima tra i ricoverati in ospedale. Si tratta di un anziano di 80 anni. Dopo la paura delle settimane scorse, intanto Villa Franca torna ad essere comune Covid-free, curva dei contagi che scende anche a Sciacca e a Cattolica Eraclea. L'Istituto Mariano Rossi ha adottato la spiaggia dello Stazzone. Saranno gli stessi studenti a prendersi cura del litorale raccogliendo i rifiuti nel tentativo di restituire la giusta dignità a questa parte delle litorale saccense. Ieri alla Chiesa dello Spasimo concerto della pianista siciliana Floriana Franchina, che ha proposto parte del suo repertorio. Fuori dalla Chiesa la protesta di Totò Allegro contro l'impossibilità per i disabili di entrare nel bene monumentale. Calcio torna a giocare in casa domenica all'Unitas Sciacca, che al Gurrera ospiteranno il Castel Termini, riduce dal cambio di allenatore. La società saccense abbassa il costo del biglietto, sperando in una presenza massiccia del pubblico allo stadio. Ben ritrovati a RMK Notizie. Continuiamo a parlare dell'ennesima recente protesta dei sindaci siciliani a Roma presso le autorità centrali di governo per il grido di dolore che proviene dalle municipalità, che senza organico e senza soldi non riescono a garantire i servizi minimi e essenziali. Oggi il primo cittadino di Santa Margherita, Franco Valenti, non nega di essere ormai disilluso, mentre quello di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, rivela per mancanza di personale sono dovuto andare io stesso a chiudere il cimitero comunale. Il punto nel servizio di Massimo D'Antoni. Sindaci siciliani sempre più in trincea non nascondono i propri dubbi sugli ennesimi impegni assunti a Roma nei loro confronti, che però non vengono mai rispettati. Il tema del fondo accantonato per coprire i crediti che i comuni non riescono ad incassare ma che non si può toccare è soltanto uno dei temi al centro del dibattito. Franco Valenti, primo cittadino di Santa Margherita di Belice, attacca la politica di tecnici e burocrati e quella che definisce la democrazia sospesa con un Parlamento composto dei nominati. Faccio fatica a riconoscermi oggi in questo Stato. Faccio fatica perché abbiamo visto quello che è successo con i progetti della regione, siciliana per quanto riguarda l'irrigazione dei campi agricoli, tutti i progetti presentati, tutti bocciati, forse mancava un allegato, mancava qualcosa. Ora dico, ma questo è un modo di fare politica, è un modo di operare corretto. Cioè, allora, se la Sicilia ha bisogno di irrigare i propri terreni, lo Stato deve preoccuparsi solo a capire le risorse da destinare alla Sicilia, poi se c'è qualcosa che non va, lo Stato si sostituisca, questi grandi burocrati che esaminano i progetti e magari trovano qualcosa che non va, vengano nelle sedi opportune, fanno gli accorgimenti che devono fare, ma che cosa significa bocciare tutti i progetti? Cosa significa che su 150 progetti ammessi in Italia solo 35 sono dell'Italia del sud? I fondi del PNRR destinati alla Sicilia rischiano di tornare a Bruxelles perché i comuni non hanno gli impiegati per poter presentare progetti e a Santo Stefano Quisquine, il sindaco Francesco Cacciatore, presidente di Ali, raggruppamento di 96 tra i piccoli comuni, rivela che meno del 30% della pianta organica comunale è tuttora coperta. Le parlo da sindaco di un comune di quasi 5.000 abitanti che dovrebbe avere in organico 54 dipendenti e oggi mi trovo ad amministrare una macchina amministrativa con 16 dipendenti. Io ho un tecnico comunale con l'articolo 110, una ragioniera e una responsabile del servizio finanziario che mi gestisce pubblica istruzione, servizi sociali, beni culturali, turismo, sport, spettacolo, biblioteca comunale, una responsabile di ali di categoria C. E allora il tema che si pone oggi, qual è? Quello della mancanza di quelle professionalità tali per portare avanti una serena e completa progettazione. Perché noi avremo in fondo il PNRR. Chi li deve gestire? Chi deve progettare? Chi deve programmare questi interventi di progettazione? Il sindaco e il cittadino poi dice sempre che la colpa è del sindaco, no? Assolutamente, ma il dato più drammatico è questo, perché poi io mi sono trovato ad andare a chiudere fisicamente il cimitero comunale perché devo garantire i servizi. Alla fine, stando a quanto denuncia Franco Valenti, l'ennesima spedizione romana rischia di restare nella storia per le sole foto di gruppo con tanto di fascia tricolore. Il Ponte Morandi insegna, quando le cose si vogliono fare, si fanno e si fanno anche cedermente. Questa è l'Italia della burocrazia e dei tecnici non piace. Lo dico chiaramente, lo rassegno chiaramente. A me questa Italia non mi piace. Questa Italia che non guarda la sostanza ma guarda i cavilli, non mi piace. Quella di 48 ore fa a Roma è stata la seconda spedizione di protesta dei primi cittadini siciliani dopo quella di aprile per denunciare le iniquità attorno al recovery plan. Tutto però, denunciano i sindaci, si è trasformato nell'ennesima passerella politica. Se noi non ne sburocratizziamo e non ne semplifichiamo le macchine amministrative, noi ci troveremo ad avere un'ingente somma di risorse che arriveranno dall'Europa, ma se non abbiamo una svolta seria sul piano organizzativo e contabile nei comuni, sicuramente perderemo questo treno. Se noi dovessimo perdere anche questo treno del PNRR, che servirà a favorire uno sviluppo socio-economico e a contrastare lo spopolamento di questa nostra morturiata provincia, veramente possiamo chiudere i battenti. Io credo che questa sia veramente l'ultima sfida che ci attende per innalzare la qualità dei servizi e soprattutto per preservare quelli che sono gli elementi delle nostre tradizioni e dei nostri territori. Cambiamo argomento. Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha assolto per avvenuta prescrizione del reato Simone Chifari, difeso dall'Avvocato Antonello Palagonia, assoluzione anche per Accursio Sabella, Giovanni Maniscalco e Salvatore Perez, difesi dall'Avvocato Mauro Tirnetta. Il processo si è celebrato con il rito ordinario. I fatti si riferiscono all'operazione antidroga denominata Azalea, condotta dai carabinieri e finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Simone Chifari era considerato il punto focale dell'attività di spaccio di hashish e cocaina tra Sciacca e Palermo, mentre Sabella, Maniscalco e Perez erano accusati di detenzione al fine di spaccio di hashish. Fatti connessi tra Palermo e Sciacca fino al 2011. La pubblica accusa aveva avanzato richiesta di condanna per tutti gli imputati per i reati e i loro contestati. Il giudice monocratico Dino Toscano, riconoscendo nei confronti del Chifari la riqualificazione del reato per come richiesto dall'Avvocato Palagonia, ha disposto il non dovers procedere per intervenuta prescrizione del reato. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato questa mattina un uomo di 42 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di due rapine a mano armata, messa a segno ai danni di un supermercato della città. Le rapine risalgono ai mesi di maggio e giugno dello scorso anno. Il rapinatore è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, quando con volto travisato e pistola in pugno minacciava la cassiera di turno, intimandole di consegnare l'incasso. Nella rapina di giugno il bottino è stato quantificato in circa 250 euro. Nel corso dei relativi sopralluoghi, i carabinieri hanno rinvenuto, poco distante, gli indumenti utilizzati dal rapinatore, inviati a risse di Messina. Ulteriori riscontri probatori sono scaturiti dalle perquisizioni domiciliari eseguite nel corso dell'indagine presso l'abitazione dell'indagato e che hanno consentito di sequestrare tre pistole a salve perfettamente compatibili con l'arma utilizzata durante le rapine. Oltre alle armi è stato rinvenuto il relativo munizionamento, il tutto illegalmente detenuto. Il GIP del Tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico del 42enne, ritenuto responsabile dei due episodi di rapina gravata. Voltiamo pagina. La scelta dei candidati a sindaco alle prossime elezioni a Sciacca la si faccia attraverso lo strumento delle primarie. E quanto propone oggi alle forze politiche locali il presidente del centro studi dei Gasperi, Stefano Scaduto, che poi aggiunge nel regolamento del PD è previsto che il sindaco in carica sciolga nove mesi prima delle elezioni la riserva su una eventuale ricandidatura. Il sindaco Valenti è dunque in ritardo. Sentiamo l'intervista di Maria Genuardi. Un dibattito politico inesistente è una città addormentata prima dalla mancata trasmissione indiretta delle sedute consigliari e poi dallo scioglimento del Consiglio Comunale. Tutto ciò per il presidente del centro studi dei Gasperi, Stefano Scaduto, ha generato un allontanamento dei saccensi dalla vita politica locale con il rischio di un forte astensionismo alle prossime elezioni amministrative. È necessario riaccendere il dibattito e la partecipazione dei cittadini, sostiene Scaduto, che oggi lancia alle forze politiche locali la proposta di scegliere i candidati a sindaco attraverso lo strumento delle primarie. Lo strumento delle primarie fa parte del DNA del centro-sinistra, ma non del centro-destra. Sì, ma questo non significa niente, cioè Sciacca sotto questo aspetto potrebbe anche diventare un laboratorio politico, in questo caso con riferimento allo schieramento di centro-destra. Noi abbiamo visto che gli statuti dei partiti di centro-destra in effetti non prevedono la regola delle primarie, però nulla vieta, non ci sono divieti in tal senso, e quindi in assenza di divieti rispetto all'utilizzazione di questo strumento ben potrebbero anche i partiti dello schieramento di centro-destra utilizzare questo strumento democratico. Come invece lei giustamente rileva, per quanto riguarda lo schieramento del centro-sinistra, le primarie sono state utilizzate in diverse elezioni amministrative e in particolare costituiscono una regola dello statuto del Partito Democratico. Il Partito Democratico in realtà deve ancora sciogliere il nodo della ricandidatura, o meno, dell'attuale sindaco. Sì, ma a questo riguardo noi abbiamo esaminato anche lo statuto e il regolamento del Partito Democratico che disciplinano la selezione dei candidati alla carica di sindaco e con riguardo ai sindaci uscenti un regolamento apposito vigente del Partito Democratico espressamente stabilisce che il sindaco uscente debba sciogliere la riserva se candidarsi o meno alle successive elezioni nove mesi prima della data dello svolgimento delle elezioni e non più tardi del 15 settembre precedente l'anno delle elezioni. Quindi questo significa che per quanto riguarda il sindaco in carica il termine entro il quale dal regolamento del suo partito avrebbe dovuto sciogliere la riserva e già abbondantemente scaduto il 15 settembre di quest'anno. Questo cosa significa secondo lei? Perché tutto ciò non è avvenuto? Questo in realtà è una domanda che va posta ai dirigenti del PD ma mi pare che da notizie giornalistiche so che i vertici del Partito Democratico locale hanno più volte sollecitato il sindaco in carica Francesca Valenti a fare la sua scelta evidentemente se lo hanno fatto, lo hanno fatto in virtù di tale regolamento quindi in effetti è molto strano il comportamento della Valenti che non rispetta il regolamento interno del suo partito. Senta, la chiedo per ultimo Primaria è scelta quanto più ampia possibile dei candidati lei sarebbe disponibile anche a partecipare a questa competizione posto che nel passato è stato già candidato al sindaco? Lo valuterò, più avanti lo valuterò perché intanto è importante dico che si definiscono le coalizioni che diciamo le coalizioni si formino sulla base di un'intesa programmatica fra i gruppi aderenti e poi per quanto mi riguarda valuterò se parteciparò o meno alle elezioni primarie di una coalizione. Passiamo al Covid, nuova vittima del virus all'ospedale di Ribera dove è deceduto un'ottantenne, dapprima ricoverato in area medica e poi trasferito in rianimazione. Sale a 353 il totale delle vittime in provincia dall'inizio della pandemia. Migliora la situazione dei contagi a Sciacca che scende a 25 e torna a Covid-free dopo giorni difficili il comune di Villa Francasicula. continua a scendere la curva epidemiologica a Cattolica e Raclea dove i contagi sono adesso 16 e cioè la metà rispetto ad alcuni giorni fa. Il punto nel servizio di Noemi Tugniolo. Nuova vittima del Covid all'ospedale di Ribera dove è deceduto nelle scorse ore un'ottantenne. L'anziano era ricoverato nella medicina Covid del fratelli Parla Piano. Affetto da diverse patologie, l'uomo nella notte si è aggravato ed è deceduto nel reparto di rianimazione dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni erano peggiorate. In nuovi casi in provincia di Agrigento, ieri sono stati 15 su 255 tamponi processati, 24 i guariti e un nuovo ricovero in area medica che porta a 8 il numero dei posti letto occupati al fratelli Parla Piano di Ribera. Migliora la situazione dei contagi in tanti comuni a cominciare dalla città di Sciacca dove le persone positive al Covid adesso sono 25 cioè 4 in meno rispetto al giorno precedente. Due casi in meno a Ribera che scende a 8 contagiati mentre dopo giorni difficili torna a Covid-free il comune di Villa Francasicula che ha azzerato i contagi, quelli che si erano sviluppati all'interno di una scuola. Tre i casi a Santa Margherita Belice, 14 ad Agrigento, tre ad Aragona. A Burgio due nuovi casi hanno fatto salire a 6 il totale dei contagiati, tre i positivi a Caltabellotta, 32 a Canicattì, due in più. Continua a scendere la curva dei contagi a Cattolica e Raclea dove adesso i casi sono 16 e cioè 6 in meno rispetto al precedente bollettino. Sette i casi a Favara, 23 a Licata, 7 a Menfi, un solo positivo a Luccasicula, Montallegro e Montevago, 18 a Naro, 5 a Palma di Montechiaro, 4 a Porta Empedocle, 2 a Raffadali. E cambia veste e strutture il format video con il quale l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento fa il punto della settimana appena trascorsa in relazione all'emergenza epidemiologica in corso. Il commissario Mario Zappia ha deciso di comunicare l'andamento del contagio in provincia solo ed esclusivamente attraverso dati, grafici e tabelle. 236 positivi alla data del 3 novembre, 11 ricoverati in ospedale, 4163 le vaccinazioni effettuate nell'ultima settimana. Vediamo. Cambia veste e struttura il format video con il quale l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento fa il punto della settimana appena trascorsa in relazione all'emergenza epidemiologica in provincia. Il commissario dell'ASPE Mario Zappia ha infatti deciso di affidare unicamente ai dati, ai grafici e alle tabelle il compito di comunicare l'andamento e la consistenza del contagio in provincia insieme alle azioni di contrasto alla diffusione del virus e alle informazioni di pubblica utilità. Un video dunque di sole, immagini, numeri e statistiche. Numeri che dicono che alla data del 3 novembre i positivi al covid in provincia di Agrigento sono 236 e dunque in diminuzione. 11 le persone ricoverate in ospedale alla data di ieri. 4.163 le vaccinazioni effettuate nell'ultima settimana così suddivise. 709 somministrazioni di prime dosi, 1.719 seconde dosi e 1.735 terze dosi. A proposito di informazioni di pubblica utilità, nel video si fa riferimento alla recente apertura di un nuovo centro vaccinale in provincia, quello allestito all'interno del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, operativo dal 31 ottobre scorso tutti i giorni, dalle 10 alle 18. Infine, l'appello alla popolazione agrigentina a raggiungere uno dei centri vaccinali della provincia per sottoporsi alla vaccinazione ed uscire dal Covid. L'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca ha adottato simbolicamente la spiaggia dello Stazione. Per tutto l'anno alcune classi della media e della primaria si prenderanno cura del litorale, raccogliendo rifiuti e avviando una serie di attività, a volte a ridare lustro, ad un posto troppo spesso degradato dall'abbandono dei rifiuti. Un progetto dell'Associazione Ambientalista Marevivo e che ha coinvolto anche altri enti ed associazioni del territorio. Questa mattina la prima giornata di raccolta dei rifiuti e siamo andati anche noi. 2.769 cannucce, 2.587 bicchieri, 506 lattine, 461 bottiglie. Sono solo una parte dei rifiuti raccolti in una piccola porzione di spiaggia al borgo dello Stazione. Dagli studenti dell'Istituto Comprensimo Mariano Rossi di Sciacca, per l'attività di avvio del progetto di Marevivo Adottiamo lo Stazione. Progettualità rientrante nella campagna nazionale adotta una spiaggia dell'Associazione Ambientalista che ha inserito il litorale dello Stazione tra le spiagge adottabili per porre fine all'inquinamento. Il progetto durerà per tutto l'anno scolastico e coinvolgerà in futuro a turno le altre scuole della città. Questa è soltanto una delle iniziative portate avanti nel territorio da Marevivo spiega il presidente della delegazione siciliana Fabio Galluzzo. Il progetto consiste nel cercare di porre una soluzione definitiva e una grande scommessa ma speriamo di riuscirci al problema dei rifiuti che vengono riversati periodicamente sulla spiaggia allo Stazione. Il progetto consiste nel coinvolgere in quest'anno scolastico la scuola Mariano Rossi con un progetto già iniziato lo scorso anno ma che non è potuto iniziare a causa Covid e questo è il primo giorno. Praticamente le classi dell'istituto periodicamente verranno presso questa spiaggia a fare un'azione di pulizia ma teniamo a precisare che l'azione di pulizia non vuole essere una soltanto semplice azione di pulire e basta assolutamente no. vorremmo cercare di sensibilizzare il territorio per evitare che questi rifiuti vadano a finire spiaggia. Coinvolti gli studenti delle classi terze prime della scuola secondaria di primo grado e gli alunni del quinto anno della scuola primaria. Due classi per volta si avvicenderanno nella pulizia mensile del lungomare Saccense fino alla fine dell'anno scolastico ma non solo. In spiaggia si svolgeranno diverse attività e con il materiale raccolto si procederà ad analisi statistiche e tanto altro. Noi pensiamo con l'avvio di questo progetto di poter sensibilizzare non solo la nostra utenza scolastica quindi gli studenti e le studentesse ma l'intera popolazione Saccense. Io auspico che proprio la cittadinanza possa in futuro essere coinvolta in questa azione progettuale di grande sensibilità di grande rispetto dell'ecosistema in questo caso marino e poter fiancheggiare i nostri ragazzi nella pulizia delle nostre coste. Questa mattina abbiamo raccolto tantissimi rifiuti in particolar modo oltre poi a cotonfiocchi anche e soprattutto bicchieri e bottiglie di plastica e di vetro questo fenomeno principalmente soprattutto dovuto al fatto che i ragazzi la sera tendono a lasciare bottiglie di vetro e di plastica per strada questo quindi ovviamente non fa affatto bene all'ambiente soprattutto perché dobbiamo ricordare che vetro e plastica sono dei materiali che ci mettono tanto a deteriorarsi nel tempo. La vostra attività non finisce qui dopo aver raccolto i rifiuti cosa ne farete? Questi rifiuti soprattutto bottigliette di plastica e altri rifiuti plastici li utilizzeremo per realizzare a scuola tutti noi anche con la collaborazione delle nostre insegnanti delle sculture e delle opere d'arte che poi parteciperemo anche ad un progetto provinciale per vincere un depuratore d'acqua che si metterà nella nostra scuola. Attraverso questo progetto cosa hai imparato? Ho imparato che è importante non inquinare perché alla fine ci rimettiamo noi come popolazione e qui appunto abbiamo raccolto numerosi materiali sia di plastica che di vetro e con i rifiuti raccolti faremo uno studio statistico per appunto valutare l'inquinamento che c'è in questa zona di Sciacca che è una delle più inquinate appunto della cittadina. Sono stati coinvolti nel progetto anche altri soggetti che hanno a cuore la tutela e la promozione del territorio nell'ottica di fare squadra per far tornare alla bellezza originaria la spiaggia come il Museo Diffuso dei Cinque Sensi e il Borgo dello Stazzone. È fondamentale ha commentato entusiasta il Presidente del Comitato di Zona Angelo Pumilia coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni che tanto amano frequentare il posto. Vedo che oggi c'è un sistema tutto particolare c'è anche un inventario di tutto quello che stanno facendo ma la cosa più importante per me è quello l'entusiasmo che hanno tutti questi ragazzi non solo nella polizia ma per lo Stazzone stesso perché in fin di conto io mi sto rendendo conto di una cosa che veramente sono loro le forze del domani veramente se noi riusciamo a far capire a loro stessi di non inquinare sono loro quelli che porteranno avanti questa campagna Il progetto ha avuto il patrocinio e la collaborazione del comune della Capitaneria di Porto di Sciacca Purtroppo per tenere pulito l'ambiente salvaguardare il mare ma in generale l'ambiente serve alla collaborazione di tutti e sicuramente un'attività come questa che prevede una sensibilizzazione a giovanissimi non può che fare bene perché queste persone si ricorderanno un domani anche quando verranno qui alla spiaggia dallo stazione in compagnia bere una birra una Coca-Cola si ricorderanno di quando hanno pulito Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti è stata eletta componente della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica L'elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea dei sindaci convocata da Grigento da commissario straordinario del libero consorzio Vincenzo Raffo per il rinnovo della conferenza L'Assemblea si è riunita per eleggere sette nuovi componenti gli eletti sono risultati i sindaci di Sciacca Ribera Casteltermini Grotta Licata Cammarata e Sambuca Musica di qualità ieri sera alla chiesa dello Spasimo con il concerto di Floriana Fanchina musicista e polistrumentista siciliana che ha proposto una parte del suo repertorio a margine del concerto la protesta fuori dalla chiesa di Totò Allegro e Luca Garofalo contro l'abbattimento delle barriere architettoniche c'è il servizio Momenti di musica di altissimo livello ieri sera all'interno della chiesa dello Spasimo riaperte in occasione della Via dei Tesori e che peraltro continua ad ospitare fino al prossimo 9 gennaio la mostra artistica di Franco Accursio Gulino ad esibirsi al pianoforte Floriana Fanchina compositrice e polistrumentista messinese diplomata al Conservatorio di Bologna che ha intrattenuto il pubblico presente con una serie di brani quasi tutti del suo repertorio personale l'acustica perfetta del sito e la raffinatezza artistica della musicista hanno suscitato grande interesse emozione e naturalmente gli applausi dei presenti un concerto che ha permesso alla chiesa dello Spasimo di rivivere un altro momento importante dopo la chiusura lunga più di mezzo secolo fuori dalla chiesa dello Spasimo c'è stata la protesta di Totò Allegro e Luca Garofalo entrambi disabili risentiti con l'organizzazione per la mancata attivazione di una soluzione che peraltro lo ricordiamo sin dal momento della riapertura dell'antichissima chiesa di Sciacca permettesse anche la possibilità di garantirvi l'accesso attraverso l'intervento di superamento delle barriere architettoniche con loro si sono intrattenuti la vice sindaco Gisella Mondino e il sindaco Francesca Valenti condividendo questo disagio ricordando che si tratta di un bene monumentale di proprietà del fondo edificio di culto significando in tal modo che qualsiasi eventuale intervento di collocazione di uno scivolo andava assunto in un ambito di condivisione di responsabilità più ampio compreso quello In programma domani a Sambuca di Sicilia la dodicesima edizione del premio internazionale Navarro in mattinata il convegno sugli studi navarriani e nel pomeriggio la premiazione dei vincitori dell'iniziativa abbiamo parlato con il presidente del Lions Club di Sambuca di Sicilia Enzo Randazzo seguiamo l'intervista In programma domani a Sambuca di Sicilia la dodicesima edizione del premio internazionale Navarro una giornata che sarà articolata prima con un convegno su tematiche specifiche e poi nel pomeriggio la premiazione quali sono i momenti salienti e qual è intanto anche il tema che quest'anno viene trattato sono due momenti salienti tutti e due sia il convegno che il premio che c'è di loro sono complementari perché ruotano tutti intorno ai Navarro la mattina noi avremo una ventina di studiosi che si alterneranno con le breve comunicazioni di carattere scientifico comunicazioni di 8 minuti di massimo 9 minuti in questo sarò molto stringente perché abbiamo proprio tanta carne al fuoco che interverranno sulla tematica macchette personaggi e paesaggi navarriani che è il tema che abbiamo scelto quest'anno per il convegno il pomeriggio invece avremo la premiazione vera e propria con tantissimi premiati che vengono dal nord da Milano da Torino da Verona e anche delle personalità che la giuria ha scelto come sempre ogni anno per i premi speciali della giuria per esempio la scrittrice americana di thriller Marcella Nardi la scrittrice argentina Giusefina Ceruti ma anche personalità del luogo per esempio avremo il Saccense Moncada avremo di Sciacca anche Catanzaro il presidente dell'associazione vigile del fuoco la vice sindaco di Caltanissetta questi per aspetti umanitari soprattutto durante la loro attività altruistica di soccorso di aiuto alle popolazioni fatta durante la pandemia che cosa rappresenta il premio Navarro per Sambuca di Sicilia un'iniziativa che ormai voi portate avanti da diversi anni è un'iniziativa che portiamo avanti da diversi anni che senza dubbio ha fatto riscoprire e rivalutare ancora maggiormente accendendo i riflettori sui Navarro su Vincenzo e su Emanuele anche se indubbiamente a livello nazionale internazionale la figura di Emanuele che ha ingiodotto il verismo in Italia che ha scritto questo bellissimo romanzo La Nana che è il primo romanzo italiano contro il femminicidio lui che è stato insomma in Francia negli anni 60 e quindi ha portato sia l'influsso del naturalismo sia queste tematiche di respiro moderno europeista infatti oltre che un pre-verista Navarro è anche un pre-perandelliano per quanto attiene la problematica del parere la problematica dell'illecito sessuale perdonato che sono tematiche assolutamente rivoluzionari per quegli anni Riprendiamo con le notizie Arcidiocesi di Agrigento si è svolta l'elezione dei nuovi vicari foranei il vicario generale Don Giuseppe Cumbo avendo preso atto delle preferenze espresse dal presbiterio oggi comunica che l'arcivescovo Alessandro Damiano ha nominato i nuovi vicari tra gli altri a Sciacca confermato Don Stefano Nastasi a Ribera Don Giuseppe Argento a Santo Stefano Quisquina Don Emanuele Casola a Portempedocle Don Gioacchino Falsone a Canicattì Don Calogero Morgante è stato presentato ieri pomeriggio a Burgio il libro Redenta Ed Una raccolta di nomi e fotografie dei caduti reduci e decorati del piccolo comune montano il volume di Antonino Sala è stato patrocinato dal comune in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto Calogero Parla Piano Redenta Ed Una caduti reduci e decorati di Burgio questo il titolo del libro di Antonino Sala proposto con il patrocino del comune di Burgio che è stato presentato ieri pomeriggio presso la sala convegni dell'ex casello ferroviario il volume elaborato dalla Melkart Communication di Sciacca ricorda e racconta le gesta dei soldati che partiti dal piccolo comune montano hanno perso la vita durante tutte le guerre la presentazione si è tenuta in occasione della festa del 4 novembre e del conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto ad intervenire oltre all'autore Nino Sala il presidente del circolo Unione Santino Rizza il giornalista Salvatore Picone e il sindaco di Burgio Francesco Matinella in questo volume è una cosa importante sono stato anche molto entusiasta a finanziare questa opera perché c'è una raccolta si è fatto una ricerca meticolosa di tutti i caduti burgitani di tutte le guerre e questa è una cosa importante soprattutto da tramandare i giovani nel futuro per capire per avere l'importanza del sacrificio che hanno fatto sia i burgitani ma anche tutti gli italiani che hanno perso la vita in tutte le guerre questo è stato tantissimo interesse nelle famiglie perché sono tutti i cognomi burgitani e ognuno tuttora si riconosce in quei nomi e in quei cognomi è una cosa importante perché anche chiedono i ragazzi della famiglia i papà i genitori per capire che tipo di parentela c'era sarebbe il nonno e si è creato quell'interesse per capire e i genitori spiegano anche che il bisnonno è stato in guerra che purtroppo non è ritornato ed è morto però questa è una cosa importante che ha creato molto interesse abbiamo raccolto i dati essenziali per ricostruire una memoria che sia poi condivisa che sia anche una memoria collettiva e che in qualche maniera ridà vita a coloro i quali la vita l'hanno donata per la patria la seconda parte è invece dedicata ai reduci e ai combattenti a tutti coloro i quali hanno ricevuto una medaglia di riconoscimento da parte dello Stato italiano sia durante il Regno d'Italia che poi con la Repubblica in più ricordiamo nel libro due medaglie al valore d'argento di due combattenti uno della prima guerra mondiale Parisi e l'altro della guerra d'Africa Guarisco che noi ricordiamo e che nello stesso tempo onoriamo Per la comunità di Burgio sicuramente è un'opera straordinaria che non raccoglie soltanto i nomi di tutti coloro che hanno partecipato alle guerre ma è un valore di memoria e come diceva Sciascia quando un paese piccolo o grande che sia non perde la memoria significa che non vuole perdere la libertà ecco questo volume andrebbe fatto in tutti i comuni d'Italia è una ricerca straordinaria di Nino Sala e nelle storie di questi figli di Burgio che hanno come dire dato il loro contributo al destino dell'Italia il milita ignoto naturalmente li rappresenta tutti ma ricordarli uno ad uno è significativo appunto è significativo per un paese qui ancora ci sono le radici di tutti questi uomini le radici che vivono non solo nelle famiglie ma anche nell'area di un paese se noi oggi siamo un popolo libero lo dobbiamo a loro e se Burgio e oggi lo fa ricordando il centenario del milita ignoto e ricordando tutti i caduti in guerra sicuramente dimostra di essere una comunità viva palpitante che fa della memoria e come dicevo prima un valore assoluto vediamo invece quale libro ci consiglia oggi la libreria Mondadori odore odore di alghe limacciose sabbia densa odore di piume bagnate è un antico cratere ora pieno d'acqua è il lago di Bracciano dove approda in fuga dall'indifferenza di Roma la famiglia di Antonia donna fiera fino alla testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile di quattro figli Antonia è onestissima Antonia non scende a compromessi Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla propria capacità di tenere alta la testa e Gaia impara a non lamentarsi a salire ogni giorno su un real regionale per andare a scuola a leggere libri a nascondere il telefonino in una scatola di scarpe a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo sembra che questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo invece quando leva lo sguardo ai suoi occhi hanno una luce nerissima ogni modo di ragionevolezza precipita dentro di lei come in quelle notti in cui corre affari spenti nel buio in sello motorino alla banalità insapore della vita un torto subito Gaia reagisce con violenza imprevedibile con la determinazione di una divinità muta sono gli anni 2000 Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati dei primi sms le acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti l'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito edito Bonpiani premio Campiello 2021 siamo allo sport calcio nuovo impegno casalingo per l'unitas sciacca i neroverdi ospitano al Gurrera il Castel Termini che ha appena cambiato il proprio allenatore la società saccense chiama raccolta i tifosi riproponendo biglietti a prezzi popolari per riempire le gratinate dello stadio sentiamo torna in campo l'unitas sciacca la squadra neroverde domenica pomeriggio al Gurrera ospita il Castel Termini con calcio d'inizio alle ore 14.30 per l'occasione la società presieduta da Gioacchino Settecasi ripropone dei biglietti a prezzo scontato per riempire le gratinate centrali e laterali dello stadio il ticket anziché 8 euro ne costerà 5 ed è acquistabile con le consuete modalità attraverso il web su ticketsms.it sui social oppure recandosi presso lo store dello sciacca allo stadio la stessa iniziativa era stata già portata avanti in occasione della precedente partita casalinga disputata e poi vinta contro il Mazzara la squadra di mister Giuseppe Geraldi con 10 punti veleggia esattamente a metà classifica grazie agli ultimi tre risultati utili consecutivi ossia una vittoria e due pareggi è una partita che potrebbe permettere ai neroverdi in caso di successo di allontanarsi dalla parte bassa della classifica se accensi che sperano di recuperare tutti gli infortunati nell'attesa di poter intervenire probabilmente sul mercato invernale il Castel Termini con 5 punti ed una sola vittoria finora in campionato ha cambiato l'allenatore in settimana quindi è possibile che al Gurrera presenti delle novità tattiche sono già 5 le panchine saltate nel girone dello Schacke il match è volevole come non aggiornata del campionato di eccellenza girone A queste le altre partite in programma domani l'anticipo tra Parmonval e Don Carlo Misilmeri domenica invece oltre alla partita tra Schacke e Castel Termini giocheranno anche Dolce Onorio Marsala Profovara Enna contro Castellammare Acagas Cus Palermo Nissa Monreale Oratorio San Giro e Giorgio Mazzara e Mazzarese contro Canicatti E con il calcio chiudiamo il nostro telegiornale grazie come sempre per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni